benvenuti alla rassegna stampa di oggi giovedì 9 maggio 2019 questa è fano tv e siete sul canale 17 in diretta tutte le mattine dal lunedì al sabato c'è un'occhiata ai giornali diamo uno sguardo una sfogliata anche se è tutto digitale ormai è la carta neanche l'odore sentiamo più ma comunque vi daremo tra pochissimo le notizie più importanti del giorno che troverete naturalmente nei vostri giornali preferiti e dal vostro edicolante di fiducia partiamo però come sempre dal santo del giorno vediamo il santo di oggi attraverso il cartello oggi è san geronzio il patrono di cagli il sole sorto alle 5 49 tramonterà le 20 e 20 il tempo questo tempo che continua a fare le bizze questo maggio che sembra febbraio anche oggi ci sarà una giornata con pioggia soprattutto nelle ore centrali della giornata e per il promeriggio sono previsti anche rovescio temporali sparsi soprattutto diffusi nel settore centro settentrionale della regione le temperature sono in aumento quelle della notte stazionari oppure in lieve diminuzione quelle massime per la giornata di domani venerdì per fortuna il tempo migliora soprattutto sulla costa splenderà il il sole sabato sabato un po di annevolamenti con brevi piovaschi soprattutto nel settore settentrionale della regione quindi la provincia pesarese possibile probabile peggioramento dalla giornata di domenica con fenomeni intensi soprattutto nella prima parte della prossima settimana e questa è questa è la previsione della protezione civile delle marche oggi a fano il centro storico sarà bloccato per l'arrivo di salvini così come lo sarà quello di pesaro in piazza del popolo dove intorno alle 10.30 arriverà il vice premier e il ministro dunque dell'interno e di questo parlano i giornali questa mattina anche se l'apertura del corriere driatico l'edizione di pesa urbino sul san bartolo un san bartolo che è troppo fragile e dunque vietato sarà vietato l'attracco alle barche c'è questa ordinanza della capitaneria di porto di pesaro che prevede tra l'altro per i trasgressori anche multe salate il comandante dice tuteliamo così anche i bagnanti la falesia sotto il colle è ancora fragile dopo il grande incendio dell'agosto 2017 e dopo due anni devono essere ancora avviate gli interventi strutturali antidissesto e poi a Fossombrone a Fossombrone dopo la mega vincita la maxi vincita il gratte vinci di 5 milioni si scatenano coloro che cercano di capire chi è questo fortunato vincitore questo pensionato baciato dalla fortuna ma c'è anche chi si scatena con gli scherzi per esempio è comparso questo cartello fuori da un negozio di frutta e verdura da oggi frutta gratis per tutti offre erminio e quindi viva la come dire anche la simpatia perché quando è così bisogna anche un po' sdramatizzare soprattutto per chi non ha il tagliando tra le mani frutta gratis ma non è il super fortunato Fossombrone craccia il vincitore da 5 milioni del maxi miliardario arriva Salvini presidiate le due piazze e affano via le sedie i tavolini gli ombrelloni della piazza 20 settembre disposte delle rigide misure di sicurezza protestano i ristoratori non era mai successo i ristoratori i baristi quelli che si affacciano sulla piazza dove a mezzogiorno circa arriverà appunto il il vicepremier per quanto riguarda la pagina del resto del carlino anche qui sul 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 sull'arrivo di Salvini la carta sul tavolo del voto il ministro in città e poi affano in città pesaro e poi affano dove sono annunciate contestazioni c'è infatti un presidio a fanno in piazza andrea costa durante il comizio così come avvenne qualche qualche anno fa la questura ha lavorato fino al tardo pomeriggio di ieri per garantire la massima sicurezza prendendo a riferimento la capienza massima della piazza ovvero di circa 6 mila persone ci sarà un servizio d'ordine consistente sia in divisa sia in borghese in civile ma in questura non temono particolari contestazioni e poi ancora dai giornali la pagina di fanno il corriere adriatico mi attaccarono in modo selvaggio ma avevamo salvato il patrimonio l'intervista all'ex presidente della fondazione cassa degli sparmi di fanno valentino valentini la guidò prima del di fabio tombari valentini che rivendica la cessione delle azioni alla banca carifano con tombari quella scelta fu compromessa poi il doppio ruolo con prestito incagliato dato dopo l'acquisto di azioni il presidente dice conflitto di interessi inconsistente poi l'incarico del comune per riattivare la centralina siamo sempre sulla pagina di fanno operatività da ripristinare entro maggio anche con l'elaborazione dei dati è ormai un anno un anno e mezzo che la qualità dell'aria nella zona industriale di bellocchi non viene più testata sostegno al mondo produttivo e contrasto alle disuguaglianze la priorità secondo francesca cicchini della lista alla tua fanno esperienza e forze e forze nuove qui si parla della presentazione della lista e poi sotto il la notizia di cronaca con l'incidente che avvenuto ieri mattina intorno alle 8 e 30 in un incrocio che i fanesi sanno essere piuttosto pericoloso è quello fra la via del ponte e via fraghetto siamo nella zona dell'ex zuccherificio ieri mattina una ciclista fanese di 66 anni è rovinata a terra dopo un investimento con un auto articolato questo è questa la fotografia con l'immagine lo vedete qua sotto eccola qua la bicicletta incastrata con la donna che è rimasta incastrata là sotto per fortuna poi è andata è andata bene e pare appunto che ieri sera la signora di 66 anni sia rientrata a casa dopo aver passato l'intera giornata all'ospedale ecco le dentichitte del nuovo milionario il sindaco Bonci il sindaco di Fossombroni dice magari dividerà il premio ironia e scherzi all'indomani della vincita cartello anche in un negozio oggi da oggi frutta grazie per tutto un pensionato pensionato che ha un figlio quarantenne cuoco in estremo oriente e una campagna a cattolica e verrebbe da dire lasciatelo in pace ma comunque sabato l'addio invece a sesto grilli 55 giorni dopo l'omicidio l'esequie a san lorenzo in campo mentre la tumulazione avverrà nel cimitero di mondolfo il paese dove vivono due fratelli della vittima dunque si terranno sabato sabato i funerali di sesto grilli il pensionato ucciso nella sua abitazione nella notte tra il 16 e il 17 di marzo l'ultimo saluto al 74enne nella basilica di san lorenzo in in campo saranno sicuramente in tanti a dargli l'ultimo saluto intanto sul fronte delle indagini ricordiamo la scorsa settimana sono stati arrestati quattro calabresi di cui due fratellastri ritenuti gli autori dell'omicidio andiamo adesso sulla pagina di Vallefoglia perché ieri c'è stata la presentazione di una festa che ormai sta prendendo sempre più piede anche interessante speriamo nel bel tempo gli alberi fanno festa la festa degli alberi a monbaroccio i frati intanto aprono il santuario del beato sante sabato e domenica che la kermesse della natura a monbaroccio con la proloco e l'istituto agrario cecchi una iniziativa un evento importante che si svolge da ormai oltre 30 anni grazie anche all'ospitalità dei frati del santuario e sulla pagina di pesaro del corriere si ripulisce il tratto terminale del genica dal centro alla foce il comune ha stanziato i fondi per togliere rifiuti e derba alta e poi i prossimi due anni sempre a pesaro saranno decisivi per arrivare al dragaggio tanto atteso del porto a rilanciare l'attenzione su questo tema il comandante del porto maurizio tipaldi e poi si parla anche del intanto vedete la foto sotto del porto di pesaro con il comandante maurizio tipaldi e dicevo si parla anche dello studio di fattibilità per realizzare il bacino di colmata che sta seguendo l'iter previsto e quanto ci è stato comunicato dal segretario dell'autorità portuale dell'adriatico insomma sta andando avanti bene sempre da pesaro purtroppo c'è ancora crisi in alcune aziende del posto troppi sacrifici alla riva cold e dunque le maestranze scenderanno in strada e quindi faranno sciopero per domani i sindacati hanno indetto una giornata di estensione con presidio davanti all'azienda dunque fronti aperti nel mondo del lavoro dallo sciopero di venerdì prossimo 10 maggio alla riva cold per il contratto integrativo all'attesa per la pica fino ai lavoratori del mercatone 1 insomma ce ne sono di situazioni un po' in bilico nel pesarese e quindi speriamo che si risolva nel migliore dei modi a senigallia invece bisogna spostare una tubatura il cantiere si allunga di un mese è frenata sull'ultima azione del sottopasso della cesanella ancora code quindi sulla sulla statale e poi sotto l'addio all'imprenditore giro limini che ha fondato l'azienda edile socio onorario del rotari si è spento a 89 anni è ingegnere natale giro limini imprenditore la camera ardente verrà allestita nella tarta mattinata di oggi presso la casa funerale di borgo bicchia in via dell'artigianato 15 mi pare che ci siamo l'ultima abbiamo adesso alcune pagine del resto del carlino allora intanto questa è la fotonotizia che riguarda un appello un appello che gli amici di una delle vittime di corinaldo ha voluto lanciare attraverso un tweet a uno dei cantanti più in voga in questo momento ovvero ultimo ultimo che si esibirà a breve a dancona e siccome lei asia stava organizzando con le amiche questa uscita questa trasferta per assistere a questo concerto le amiche hanno pensato bene di chiedere a ultimo attraverso questo tweet di dedicarle una canzone durante il concerto e questo questa richiesta trova spazio nella prima pagina del resto del carlino di pesaro figlio di due babbi niente riconoscimento padre gabicesi doccia gelata verdetto della cassazione per un caso analogo la procura di pesaro con cristina tedeschini dice in gioco ci sono i principi fondamentali del nostro ordinamento e la pagina di fano prima gli italiani mio figlio non ha diritti la battaglia di una ragazza madre che oggi vorrebbe parlare con il ministro salvini basta solo una sua firma ci aiuti dice eda andreu mamma di un bimbo di sei anni senza cittadinanza che appunto si appella al ministro salvini e poi caro ultimo canta una canzone per asia lanterna azzurra le amiche di una vittima scrivono al cantante in concerto d'ancona a sinistra asia nasoni residente a marotta e studentessa del liceo medi di senigallia morta come dicevamo l'otto dicembre scorso alla lanterna azzurra e a destra invece una foto del cantante del cantante ultimo e poi ancora dai giornali no mi pare che siamo abbiamo finito sì era l'ultima l'ultima pagina della nostra segna stampa bene l'informazione torna stasera alle 20 e 30 con occhio alla notizia se volete farci delle segnalazioni invece questo è il numero di telefono 338 49 68 250 me non resta altro che augurarvi una buona giornata arrivederci ciao 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 ciao